Per ripercorrere la storia del jazz significa seguire le molteplici tracce e riannodare gli innumerevoli fili di una delle espressioni musicali più ricche e complesse della storia del mondo. La parola jazz pare deledita jism jasm, americanismo, sinonimo di forza, esaltazione, oppure come sostiene Tizzi Gillespie dal dialetto africano jazz, che significa vivere a ritmo accelerato, sotto pressioni, Don Pai de Riverside, a dirigere il corpo battistico Santa Cecilia di Argonati come di consueto invito il maestro Rosa Bianca Perigo. Applausi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.